Oggi vi voglio comunicare, vi voglio dire che abbiamo una piccola gamma di prodotti della Cifo che servono per la cura del verde e per togliere tutti quei fastidiosi insetti che abbiamo in giro per la nostra casa e per il nostro giardino. Abbiamo i prodotti che servono per colpire i nidi delle vespe che vanno a posizionarsi in posti molto scomodi, quelli che hanno un getto molto lungo e che riescono a raggiungere anche i 4 metri d'altezza e oltre. Abbiamo i prodotti che servono, che sono anche presidio medico chirurgico, per fare la disinfezione nelle aree domestiche, quindi vengono usati sia per ambienti interni anche nei garage, nella cuccia del cane, nel mio giardino, per tutto quello che è volatile, quindi dai cimici alle zanzare a qualsiasi altro insetto io voglio togliere dal mio giardino. Prodotti lumachicidi, prodotti specifici per la cura del prato, la selezione per andare a colpire la foglia larga, ma anche contro le cocciniglie, ma anche il prodotto per i topi. Uno dei prodotti più interessanti in questo periodo che stiamo vendendo è un prodotto che va usato anche in casa, sugli stipiti delle porte, all'interno e all'esterno, contro i cimici che tendono ad andare ad annidarsi, perché iniziano a sentire il freddo, dappertutto. Quindi è un prodotto che non macchia, estremamente efficace e che dà i propri risultati anche nel tempo, perché potrebbe avere un effetto abbattente e anche un effetto residuale. Quindi con questo prodotto qui riusciamo a toglierci dai piedi il più possibile a questi fastidiosi animaletti. Se volete fare piazza pulita, venite a trovarmi e qui troverete la risposta giusta. Ciao a tutti e buon trattamento!